Un saluto energico a tutti voi tifosi del Napoli e ai tifosi di tutte le altre squadre benvenuti in questo nuovo video la prima cosa vi invito subito ad iscrivervi al mio canale per poter crescere, per poter fare sempre meglio e per diventare perché no un youtuber di vostro gradimento altra partita, il mondiale va avanti qui ci troviamo con la partita Tunisia-Australia qui vediamo un risultato, un 0-1 a favore dell'Australia ciò che mi viene subito da dire è che l'Australia ha le possibilità di passare il turno quindi fare le scarpe alla Danimarca sarebbe un passaggio vorrei dire quasi sensazionale più o meno avevano non dico tutte le stesse chance di passare il turno comunque è ancora presto quindi non diciamo niente finché non abbiamo risultati più provanti di questo però questa vittoria contro la Tunisia sinceramente non me l'aspettavo però ci sta, ci può stare ora vediamo un po' di confrontare le statistiche per capire l'andamento della partita visto che la partita non l'ho vista nemmeno oggi, oggi è giornata di impegni e quindi nemmeno questa sono sempre in attesa di una maschera così i video li faccio mostrandomi tra virgolette in carne ed ossa allora, statistiche veniamo qua allora, tiri qui abbiamo 14 a 9 cioè la Tunisia ha fatto più tiri purtroppo ha perso lo stesso tiri in porta ecco 4 contro i 2 dell'Australia quindi il 50% della Tunisia ha fatto l'Australia possesso un 58 e 42 diciamo che sì più Tunisia anche perché ha fatto anche più tiri in porta però 42, 58 cioè la Tunisia ha un 8% in più rispetto all'equità quindi niente da dire passaggi 494 ma anche l'Australia 351 quindi voglio dire sì un centinaio 150 in più 143 in più esattamente voglio dire va bene così precisione ai passaggi 76-68 ecco, ed esempio un poco di più la Tunisia falli più falloso quindi più nervosa la Tunisia 16 a 15 lo dimostra anche dopo che sto leggendo ammunizioni 3 per la Tunisia contro i 0 dell'Australia fortunatamente nessuna espulsione 3 fuori gioco 3 fuori gioco sono stati portati al fuori gioco dai difensori dell'Australia per tre volte calci d'angolo 5 a 2 quindi voglio dire come dire come se la Tunisia ha provato disperatamente anche senza la qualità giusta senza senza finalizzare i tanti tiri non so è stata più concreta mi sa l'Australia era una buona partita per entrambi cioè chi vinceva aveva quella spinta in più per crederci nel passaggio del turno non è ancora detto nulla noi seguiremo l'andamento di di questi gironi e di questo mondiale vi rinnovo l'invito ad iscrivervi tutti al mio canale fate come dire questo gesto di altruismo e io che io vi ringrazio quindi rimaniamo in contatto seguitemi e spero di fare video interessanti qualcosa che come una chiacchiera tra amici quindi in attesa del nuovo video ancora un saluto energico a tutti voi e buon sabato sera grazie